buonasera ben ritrovati su sportello reclami siamo in centro ad arezzo sapete dove c'è quello che una volta si chiamava inps dove ci sono gli uffici dell'asl siamo qui perché oggi parliamo di un problema che è molto sentito buongiorno meri profilo facebook partito delle cicale buongiorno parliamo del problema che abbiamo tutti noi cittadini di trovare posto per parcheggiare la nostra macchina anche per un breve lasso di tempo in centro ad arezzo soprattutto dopo che sono stati avviati i lavori che hanno portato nel tratto di via roma via crispi e ora anche nel secondo tratto di via crispi alla realizzazione del cosiddetto boulevard però anche contestualmente all'eliminazione di tutta una serie di posti auto che prima erano lungo l'asse stradale infatti ci sono arrivate nel profilo il partito delle cicale numerose segnalazioni sia di persone di media età sia di persone di una certa età che praticamente hanno il problema quando arrivano qui o per ritirare certificati o per visite o per commissioni di breve scadenza hanno problema nel trovare un posto dove fermarsi anche per pochi minuti perché dicono che qui c'è un po' un uso improprio visto lo spostamento dei posti dal centro città verso sempre più la periferia c'è questa problematica e un uso improprio di parcheggi che magari potrebbero servire per questi 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 motivi in soldoni stiamo parlando del fatto che mezzi di alcuni enti che dispongono di spazi all'interno delle proprie aree dove poter ricoverare i loro mezzi purtroppo talvolta utilizzano gli spazi che invece sono destinati alla sosta fra parentesi non alla sosta gratuita ma alla sosta a pagamento per cui Alex capisci bene che qua si intersecano diversi problemi da prima il fatto di una corretta gestione del flusso di autoveicoli che hanno necessità ripeto per tempi più o meno lunghi di stazionare ma anche quelli degli utenti che sicuramente quando vengono presso gli uffici della usl per ritirare degli esami per sostenere degli esami oppure per accompagnare i propri cari o i propri o i propri amici che hanno difficoltà autonomamente a recarsi in questi posti si trovano a dover fare i conti con un numero non solo sempre minore di posti auto ma anche con un numero di posti auto che potrebbero essere a disposizione del cittadino e che per ragioni che io francamente non non saprei indicare purtroppo sono occupati ma infatti qui ci sono persone che si lamentano di non trovare il posto un posto per un limitato periodo di tempo quando magari c'è l'utilizzo di alcuni spazi che dovrebbero essere utilizzati da questi enti vengono utilizzati dai dipendenti quindi si parla tanto di parcheggio mecenate e altri parcheggi che sono stati aperti ma se uno li deve utilizzare per per ampi periodi sarebbe opportuno utilizzasse quelli non toglieste questi spazi a persone che hanno necessità perché qui c'è uno spostamento continuo cioè chi magari si trovava a parcheggiare in centro si è dovuto spostare di qualche metro perché la zona è stata chiusa e parcheggi tolti e quindi di conseguenza c'è uno slittamento continuo di posti che potrebbero servire però attenzione Alex perché e lo documentiamo tra poco le perplessità sulla gestione del problema parcheggio di quello che taluni chiamano interscambio vengono anche quando ci si trova di fronte ad altre situazioni Alex ti dicevo c'è qualcosa che rimane strano in questa gestione delle aree di parcheggio dei posti macchina siamo in piazza risorgimento e qui dietro a noi ci sono molte macchine ci fa felice che il comune dopo aver tolto tanti posti macchina abbia ridato la possibilità di posteggiare in piazza risorgimento invito gli aretini a farlo insomma visto che ho guardato le macchine non hanno permessi particolari non ci sono più i cartelli di isola pedonale quindi aperto a tutti benvenuti aretini Alex come ho detto prima qui si intersecano tanti problemi quello della gestione dei posti in cui poter parcheggiare la propria autovettura per periodi più o meno brevi di tempo il problema di chi ha necessità di parcheggiare vicino a dove stanno dei servizi e a questa necessità non perché non voglia fare due due passi a piedi in più ma perché ha dei parenti o degli amici che hanno difficoltà di movimento per cui ha necessità di arrivare il più vicino possibile si trova in difficoltà questo è quello che noi abbiamo documentato come al solito a te il servizio tu sai benissimo a chi questo servizio deve essere inviato perché ne faccia buon uso arrivederci grazie grazie grazie